eccoci qua ragazzi in questa nuova parte ho deciso in questa nuova parte di farvi vedere come scaricare did space 3 ok innanzitutto sito è questo lo metterò in descrizione aspettate un attimo minuti di eccomi ragazzi come stavo dicendo voglio farvi vedere come scaricare did space 3 limit ed edition in italiano più la italiano no non italiano scusate però con la crack se volete in italiano metterò link in descrizione dove potrete andare dove potrete andare a scaricarla ok dopo essere andati in questo sito qua cliccate qua questa qua questa riga qua se volete il download se volete il download di did space invece se volete la crack è qua questa qua io l'ho già scaricata poi queste qua non so cosa sono ma io non le scarico e quindi niente aspetta no ah si questa è la reloaded spero no è la limite di cimbo ecco ho sbagliato niente per questo video è tutto vi ho fatto vedere come scaricare did space 3 vabbè dopo averlo scaricato uscirà la schermata però questa schermata qua io lo sto ancora scaricando ma non ha peso insomma è partito adesso download quindi ok sono un po lento niente qua potete se volete invece la traduzione andrò a cercarmela ve la metterò in descrizione quindi state tranquilli basta che vi votate e se volete se volete video di did space 3 contattatemi il mio contatto su skype e dopo ve lo metterò in descrizione niente nella mia guida finisce qua e alla prossima ragazzi ciao